Per mesi i media hanno parlato del ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due all'inizio hanno preferito tenere un profilo basso, ma alla fine sono usciti allo scoperto e qualche giorno fa la showgirl ha anche pubblicato una foto insieme al marito. Ovviamente lo scatto ha attirato migliaia di complimenti e anche qualche critica e per questo è intervenuta la madre di Belen. Ma andiamo per gradi, un follower di Belen ha commentato la foto in maniera carina, felice per voi, l'amore vince sempre e su tutto, la famiglia prima di tutto. Immediata la risposta di un'altra signora, ma l'amore su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza, la madre di Belen contro un hater, questa è la vita, si cade. Veronica Cozzani dopo aver piazzato un lichè all'immagine della figlia con Stefano De Martino, si è messa a leggere i commenti. La madre di Belen ha voluto rispondere all'utente che ha accusato la Rodriguez e Antonio Spinalbese di aver fatto una figlia con leggerezza, cosa vuol dire? Questo si chiama vivere. Si cade, si sbaglia e ci si può rialzare quante volte è necessario. Questo è viva, Veronica Cozzani, non farò mai un reality, la verità è che non mi piace stare in tv e si vede benissimo. No, non farò mai un reality, anche solo per il bagno. Non mi vedrete mai al GFV, o all'isola. Il punto del bagno mi ferma dal fare tutto, poi ci sono anche le telecamere. Non potrei sopportare il fatto di non avere un bagno privato, non potrei mai farlo, sono l'unica della famiglia che non vuole fare questi programmi. Dai non scherziamo, non potrei mai condividere un bagno con 20 persone o fare le cose in una buca in spiaggia. Poi ognuno fa quello che vuole. Grazie.